Dalla paura al sorriso. Nel mezzo a cinque giorni di ricovero in ospedale che Luca e la sua famiglia difficilmente dimenticheranno. Scegliamo un nome di fantasia per tutelare la privacy del bimbo. Luca, otto anni, venerdì scorso è giunto al pronto soccorso pediatrico della città ospedaliera di Avellino, accompagnato dai genitori a un'angosciosa realtà. Aveva ingerito inavvertitamente una mini batteria, modello tondo e schiacciato, una pilla che la radiografia è riuscita subito a individuare. Gli acidi rilasciati nello stomaco del piccolo erano già provocato una pericolosa ulcera. La necessità di agire in fretta e un intervento non semplice, data l'età del paziente, non hanno impedito di procedere con la determinazione e guadagnare tempo vitale. Al dottore Aristide Morante, gastroenterologo e anestesista, è toccato il delicato compito di estrarre il corpo estraneo dalla pancia del piccolo dopo la preliminare sedazione effettuata in sinergia con l'anestesista Domenico Rubino. Minuti che possono cambiare il corso di esistenza, in cui la concentrazione è unicamente rivolta all'obiettivo, attimi decisivi che ai familiari tolgono il fiato. La gastroscopia ha dato i frutti sperati, nessuna lesione, tutto andato per il meglio, la dimostrazione delle professionalità e dell'eccellenza di cui l'ospedale velinese può godere. Il risultato la conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, anche del valore umano degli operatori rispetto alle difficoltà di una sanità che troppo spesso finisce alla ribalta delle cronache per i tempi e le attese. La qualità delle cure invece è quella che può e che deve fare la differenza. Luca e la sua famiglia questa mattina sono tornati a casa in un piccolo paese della provincia di Avellino, non senza aver prima rivolto un sentito grazie ai medici. Il sorriso e il saluto del bambino, ne siamo certi, sarà stato per i suoi angeli il più prezioso dei riconoscimenti possibili.